Sì. Corsa ragazzi! Vai, vai, vai! Vai, vai, che se ve le meglio! Ah, ancora altre ce ne stanno! Quante maio? Ne sono parecchie però! Di solito ho sempre due o tre! Sono tutte le categorie perché... Ah! Noni, potete parteci comprare tu con loro! Eh, a saperlo! Poi se mi fai la figura, dai lì, stai passando sulle armi! Dica tanto! Vai, vai! Annalisa, forza, dai, dai! Dai, stai bene! Ah, ma guarda un po'! Annalisa, forza! Dai, bravissima! Annalisa, forza, forza, forza! Sì, mi vede! Sì, mi vede! Sì, mi vede! Questi hanno lasciato! Questi stanno lasciando! Pensiamo, è la prima salita questa! Ma pure loro fanno? Eh? Non glielo dire che è la prima salita! Che poi non è nemmeno la figura! La figura è quella che sale su...